lavorare attorno alle mandrie, nella Virginia, spostamenti di numeri importantissimi di mucche da portare da un pascolo all'alto. I nostri amici cowboy, il vacchiero, adesso come li chiamano in questo momento, utilizzavano un certo tipo di cavallo, che è un cavallo che anche lui arriva da una varia selezione tra cavalli autoctoni americani e poi cavalli dell'indiale. Il lavoro di Redini, che è una disciplina dell'equitazione americana. I cavalli devono essere, e lo vedremo, molto agili, molto atletici, molto scattanti nei vari movimenti, perché di fatto questo spin, che è una rotazione, il cavallo va indietro, un back, tutto semplice, perché l'applausino non viene, è bello forte, da rotta forte, guardate lì, galoppo, chiamate al galoppo la sua splendida valchiria, molto bella, molto bello il loro movimento, molto bello il loro binomio. Tutto questo, bellissimo, brava, molto bene, brava Teresa, questa è la monta americana, questa è la monta western, il tuo cappello Teresa, scende la sua cavalla. Grazie, Teresa arriva da Centallo, la cavalla della scuderia Cavalmire di Villa San Costanzo.